Oggi metto in pratica tutto quello che ho imparato dai vostri tutorial per il trucco. Mettere un colore luminoso sopra l'arcata dell'occhio e picchiettarlo con le dita. Io vedo che si picchietta in continuazione, in ogni tutorial qualcuno picchietta e allora io picchietto. Mettere l'eyeliner, non ho ancora capito qual è la tecnica giusta, sono tante diverse, io faccio come l'ho fatto sempre, quindi un po' a caso. Poi pettinare le sopracciglia, dopo averle pettinate rimpolparle un po' e poi usare il pettinino con il fissatore, questa per me è la scoperta del secolo. Ora mettere il correttore e picchiettarlo un po', picchiettarlo, 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 forse ho messo troppo poco, ho picchiettato troppo, quindi ripicchietto, ripicchietto. Ora il blush, un po' di blush, qua ho sparso ma va bello stesso, poi si passa al rimmel, anzi no si dice mascara, e vado, 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 lo metto, lo metto a cerco di non aprire la bocca. Ecco qua un bel trucco per la mattina, prova del sole, prova del sole accecante, direi passata, perfetto, prova dello stendino, passata anche prova dello stendino. E questo è il mio trucco per la mattina, ora si esce!